1980, ha costruito il muro con i Pink Floyd, 1990 lo ha abbattuto a Berlino, l'ultima possibilità di vivere l'emozione più grande della storia del rock. Roger Waters, The World, sui più grandi palchi della storia. 26 luglio Padova, Stadio Uga, 28 luglio Roma, Stadio Uga, tutto il leggendario album del Pink Floyd. Una produzione da Alessandro Egan, pre vendite Ticket One, infoline a 0584 46 47 7. Grazie a tutti.